Il giorno dopo l'incendio che ha devastato la parte confinante con l'ex borgata della riserva della Marciana e ha ammorbato l'aria con le esalazioni del rogo del cumulo di gomma che si vede qui e che 24 ore dopo ancora emette fumo. Oggi un po' si respira ma ieri, ancora ieri sera, l'aria era letteralmente appestata. Quella è la carcassa di un trattore, una ruspa che si trovava sul posto parcheggiato ed è stato investito dalle fiamme. Anche qui si vede qualcosa a fuma ancora. Ed ecco la collina che fa parte della riserva della Marciana il giorno dopo. L'incendio è arrivato vicinissimo alle case e comunque ha distrutto alberi che stavano lì da decenni anche con gli uccelli che avevano fatto il nido sopra, un disastro. L'incendio è arrivato a un'altra scoperta. Grazie a tutti.